Malmo si prepara ad ospitare la 68esima edizione dell'Eurovision al Via il 7 maggio prossimo, un festival musicale all'insegna dell'unione fra i popoli, ancora una volta alle prese con un mondo in guerra e una serie di crisi e conflitti con conseguenze anche sull'evento. Quest'anno le misure di sicurezza sono rafforzate e ben visibili rispetto al solito, si attendono proteste pro-Palestine contro i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza in risposta all'attacco di Hamas, ma le polemiche arrivano fin dentro all'arena che ospita l'evento, dove, secondo quanto riportato da media statunitensi e svedesi che citano come fonti gli organizzatori dell'evento, saranno proibite bandiere palestinesi. Il regolamento prevede la presenza solo di bandiere dei paesi in gara, dicono. Ci saranno dunque quelle di Israele che è regolarmente fra i partecipanti. L'unica altra bandiera ammessa sarà quella della pace.